Lavoriamo per l'accordo, l'accordo adesso non è fatto, ci sono le premesse e i presupposti per farlo, però bisogna ancora lavorare, bisogna lavorare, stiamo lavorando ogni giorno, si lavora su Bagnoli, si lavora sugli altri tavoli, su Bagnoli bisogna fare un'intesa di cui tutti sono convinti, bisogna guardare anche il punto e virgola e il dettaglio e io credo che ci sono oggi le condizioni per ottenere un risultato che la città di Napoli su Bagnoli non ha mai ottenuto e che è soprattutto, e questo io voglio svolgere il ruolo di garante, nell'interesse della città e dei napoletani ed essendo un progetto nell'interesse della città e dei napoletani lo è automaticamente per il Paese e per l'Europa.